Tante volte quando riflettiamo sulla nostra vita e sulla nostra vocazione, l'errore che facciamo è idealizzare le cose, cioè capire come idealmente dovrebbero andare le cose. Ma noi non abbiamo vite ideali, abbiamo vite reali. C'è una grande differenza, cioè le nostre vite sono imperfette, non sono esattamente come ce le immaginiamo o così come dovrebbero essere. In questo senso, vedete, ognuno di noi deve fare i conti con la propria fragilità, con la propria umanità. Deve doversi riconciliare anche con il fatto che a volte la vita reale assomiglia molto poco a quella vita ideale che avevamo immaginato. Avevamo desiderato qualcosa per la nostra famiglia, poi è successo qualcos'altro. Desideravamo mettere al mondo dei figli, ma non abbiamo avuto il dono. Della paternità e della maternità così come ce lo immaginavamo. Pensavamo di passare un'intera vita con questa persona accanto, invece è venuta meno. La morte è sopraggiunta. Le nostre vite sono fatte anche di imprevisti, che non vorremmo che accadessero in nessun modo, ma che certe volte si affacciano dentro la nostra esperienza. Allora, finché le cose funzionano in maniera ideale, tutti siamo d'accordo e tutti ci ritroviamo. Ma che cosa accade quando la nostra vita invece, nella sua realtà, comincia a discostarsi da quella idealità? Quando succedono delle cose che mettono in subbuio anche un po' il nostro cuore, i nostri propositi, i nostri desideri. Come ci si fa santi con la vita reale? È il grande tema di far pace con la fragilità che molto spesso attraversa la nostra vita. Siamo capaci di desiderare cose grandi e siamo capaci anche di combinare guai grossi. Come prosegue il nostro cammino dopo che l'abbiamo fatta grossa? Come prosegue il nostro cammino quando ci succede qualcosa che cambia completamente le carte in tavola? Ora, io non ho una risposta. Ho semplicemente da condividere con voi qualche cosa che ruberò dalla parola di Dio. Siamo al capitolo 10 di Luca, a partire dal versetto 25. Ed ecco, un dottore della legge si alzò per metterlo alla prova e chiese Maestro, che cosa devo fare per ereditare la vita eterna? Gesù gli disse Che cosa sta scritto nella legge? Come leggi? E costù rispose Gli disse Ma quello, volendo giustificarsi, disse a Gesù Gesù riprese Un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico e cadde nelle mani dei briganti che gli portarono via tutto Lo percossero a sangue e se ne andarono, lasciandolo mezzo morto Per caso, un sacerdote scendeva per quella medesima strada e quando lo vide, passò oltre Anche un levita, giunto in quel luogo, vide e passò oltre Invece un samaritano, che era in viaggio, passandogli accanto vide e ne ebbe compassione Gli si fece vicino Gli fasciò le ferite, versandovi olio e vino Poi lo caricò sulla sua cavalcatura Lo portò in un albergo E si prese cura di lui Il giorno seguente Tirò fuori due denari E li diede all'albergatore dicendo Abbi cura di lui Ciò che spenderai in più Te lo pagherò al mio ritorno Chi di questi tre Ti sembra sia stato prossimo Di colui che è caduto nelle mani dei briganti? E quello rispose Chi ha avuto compassione di lui? Gesù gli disse Va e anche tu fa così Il primo passo dovrebbe lasciarci davvero senza parole Perché la descrizione che fa Gesù di quest'uomo È una descrizione senza spiegazioni Sentite bene Un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico E cadde nelle mani dei briganti Che gli portarono via tutto Lo percossero a sangue E se ne andarono lasciandolo mezzo morto La domanda è Perché succedono queste cose? Perché Dio permette Che qualcuno ti possa fare del male? Perché Dio permette Che dei briganti Possano saccheggiarti Picchiarti Lasciarti mezzo morto a terra? Vogliamo esagerare ancora Perché il Signore permette Che nella vita accadano cose tremende? Che ad esempio Si incontri un fallimento Che quella famiglia che doveva rendermi felice A un certo punto si arena Tutto si rompe Tutto si rovina In maniera irreversibile Perché succedono dei dolori E delle sofferenze Che sono indelebili Cioè è difficile togliersi di dosso cose del genere Perché? Capite che tutti noi siamo tormentati da questa domanda Perché accade questo? Perché Dio permette questo? Perché ci succedono queste cose? Ma il Vangelo ci dice chiaramente Che Gesù non risponde a questa domanda Non perché non vuole rispondere a questa domanda Ma perché è troppo riduttivo pensare Che basta rispondere al perché Per aver risolto il problema Dopo che avremmo spiegato Ad esempio Gesù sta parlando a delle persone Che quella strada Quel territorio Lo conoscono molto bene Il deserto di Giuda Che separa Gerico da Gerusalemme Era un luogo frequentato dai briganti Chi passava per quella strada Sapeva che correva un pericolo Un rischio Tutti sanno che quella è una strada pericolosa Quindi quest'uomo che passa da lì Sa che quella è una strada pericolosa Ma il fatto che lo sappia E che incappa in questi briganti Non risponde alla domanda Perché Dio lo permette Ancora Noi possiamo dare un'altra interpretazione Voi sapete che Tutto il Vangelo di Luca È costruito come un grande viaggio Il viaggio che Gesù fa Dalla sua terra Dove è nato Dove ha cominciato la sua vita pubblica Fino a Gerusalemme È il cammino Di ogni vero israelita Che sale a Gerusalemme In pellegrinaggio alla città santa Perché la città santa È la città del Signore Quindi dovremmo dire che Nel percorso di santità C'è una meta Gerusalemme è la meta Di un pellegrinaggio Di una persona che sta crescendo In intimità con il Signore Quest'uomo Non sta andando a Gerusalemme Se ne sta andando da Gerusalemme Quindi il suo Non è più un cammino di santità Non sta salendo a Gerusalemme Ma sta scendendo Verso Gerico Cioè sta andando in direzione Opposta a quella della santità Io vi domanderei Perché una persona A un certo punto si comporta così Perché invece di puntare Alla santità A un certo punto Cominciamo a diventare Superficiali Cominciamo a fare cose sbagliate Cominciamo a passare Attraverso strade pericolose Perché facciamo cose Che poi possono anche Farci molto male Ho capito che non c'è una risposta A tutte queste domande Ma rimane il fatto Che certe volte La nostra vita ci riserva Delle cose brutte E certe volte Noi ci ritroviamo nella vita Come quest'uomo Mezzo morto a terra E la condizione di quest'uomo Non so se colpisce anche voi È una condizione molto particolare Sapete? È la condizione di un uomo Che non prega Non viene registrata Nessuna preghiera di quest'uomo Non chiede aiuto Non desidera nulla La condizione di quest'uomo È una condizione di morte Umanamente Spiritualmente Psicologicamente Affettivamente È un morto E questo giustifica anche Il motivo per cui Il sacerdote e le vita Passandogli accanto Non si fermano Perché voi sapete Che un cadavere È impuro Non si può toccare un cadavere I tempi di Gesù Era questa la tradizione C'è il sangue Il sangue è impuro Quindi il sacerdote e le vita Non si fermano Perché è impuro Quell'uomo È morto C'è del sangue Non ci si può avvicinare A quest'uomo Vedete Sono tutti dettagli Che normalmente Noi ignoriamo Di questo racconto Ma che invece Nella vita reale Diventano Il nostro pungolo Il nostro vero problema Ad esempio Quando ci succede Qualcosa di brutto La domanda A cui noi vogliamo rispondere È perché Non è come si vive Una cosa brutta Ma perché mi è successa Questa cosa brutta E passiamo un'intera vita Lasciandoci tormentare Da questa domanda Perché E la prima cosa Che ci suggerisce Questo Vangelo È che dobbiamo accettare Che molte cose Di questa vita Sono misteriose Diffidate da quelli Che vi danno La spiegazione a tutto Non è possibile Ci sono cose della vita Che non si capiscono E bisogna accettare Di non comprenderle Perché ci siamo sposati E non riusciamo Ad avere figli Possiamo dare tutte Le interpretazioni Teologiche Umane Eccetera È una sofferenza Che una persona vive Sì Ed è una sofferenza Che a volte Non ha una risposta Ragionevole Così come noi vorremmo Averla Ma è un dolore Vero Reale Perché il nostro matrimonio È fallito Perché a un certo punto C'è stata una separazione Una famiglia Si è disgregata È un dolore reale Vero Concreto A volte Non abbiamo Per forza La spiegazione Che ci dica Come mai è successo Tutto questo Uno Se è andato Con qualcun'altra O con qualcun altro Sono storie vere Storie concrete Storie Dove noi Dobbiamo partire Dal dato di fatto Che la sofferenza È un fatto E il Vangelo Non risponde Al mistero Di quel fatto Ma il Vangelo Ci insegna Come si sta Davanti a quel fatto Come si vive Quando succedono Cose simili A un certo punto Gesù dice Per caso Per caso Per caso Non è stabilito Da nessuna parte È un caso Dice Per caso Un sacerdote Scendeva Per quella stessa strada E quando lo vide Passò oltre Anche un Levita Giunto in quel luogo Vide E passò oltre Chi è il sacerdote? Il sacerdote È il custode Della legge È il Levita Il custode Del culto Ora Mi piacerebbe Che ognuno di noi Rileggesse In questi due personaggi Due cose fondamentali Che tutti noi Ci portiamo dentro La ragione E le emozioni Il dottore della legge Rappresenta la testa I ragionamenti Il Levita Che è il custode Del culto Rappresenta Il nostro apparato emotivo Le nostre emozioni Allora Se noi Rileggiamo così Questo brano Che cosa succede? Che quando Tu ti trovi In una situazione Di sofferenza simile Quando tu ti ritrovi Davanti a un fatto simile La tua ragione L'unica cosa che può fare È costatare Vede E passa oltre Cioè Non trova una spiegazione I nostri ragionamenti Molto spesso Non ci risolvono Il problema Ha voglia Ad analizzare Le situazioni Anche se tu analizzi Anche se fai L'autopsia Di certe esperienze Che ti capitano Nella vita Con la sola ragione Non ne vieni fuori Da quel dolore Tu soffri Anzi Più ci pensi Più soffri Molta sofferenza Viene dal fatto Che noi entriamo In paranoia Con i nostri pensieri È interessante Che la ragione Può soltanto Vedere Costatare Ma non può Cambiare la situazione I miei ragionamenti Possono raccontare Quello che è successo Lo possono spezzettare Ma non possono Cambiare la situazione Allora ci rivolgiamo A che cosa Alla pancia Cioè all'apparato emotivo Qui peggioriamo La situazione Perché se la ragione Ci sembra Già qualcosa Che mette ordine Le emozioni Anche in questo caso Possono semplicemente Suggerirci Che prima stavi bene E ora stai male Prima c'era la gioia E adesso c'è l'angoscia Prima tutto era chiaro Adesso tutto è confuso Ma voi vi accorgete Che molto spesso I due alfabeti Che noi usiamo Per vivere Sono questi due La ragione E l'emozione La ragione Perché ci dà L'illusione Di tenere sotto controllo Le cose Finché La realtà Non diventa più grande Dei nostri ragionamenti Voi capite che Se io Entro nella mia casa E mi accorgo Che si è staccato Un po' di intonaco Posso intervenire Chiamo un operaio E rimetto a posto tutto Ma se succede un terremoto Non funziona più così Un terremoto sconquassa tutto Rompe tutto Ha voglia A pensare Ad analizzare Ci sono cose nella vita Che sono più grandi Dei nostri ragionamenti E dobbiamo accettare Che a volte la vita È più grande Dei nostri ragionamenti Quindi Tu puoi essere La persona più intelligente Al mondo Ma questo non ti mette Al sicuro Che la vita A volte ti riserva Delle cose Più grandi Della tua intelligenza Seconda cosa La nostra pancia Le nostre emozioni Avete mai usato Questa parola Questa espressione Sento che è la cosa giusta Difidate quando Quando si usa spesso Questo termine Sentire che è la cosa giusta Sentire che è la cosa sbagliata Cioè valutiamo Cioè valutiamo le cose Dalla ricaduta emotiva Che ci procurano Molte cose nella vita Giuste Non abbiamo nessuna voglia Di farle Però sono giuste Allora tu le fai Non per la ricaduta emotiva Ma perché c'è una ragione Più grande a volte Le nostre emozioni Da sole Anche in questo caso Possono soltanto Costatare che è successo qualcosa Ma non possono Cambiare quel qualcosa Sei felice? No Ecco la risposta Hai gioia? No Non ce l'ho più questa gioia Ecco la risposta Ragione Ed emozioni Non risolvono il problema Gesù inserisce in questo racconto Un terzo personaggio Invece dice Un samaritano Che era in viaggio Passandogli accanto Vide E ne ebbe compassione Volutamente Gesù Usa la figura del samaritano Il samaritano è uno straniero Non bene accetto ad Israele È uno sconosciuto Uno di quelli che Di cui non bisogna fidarsi Perché non è la mia ragione E non sono le mie emozioni Sapete chi rappresenta il samaritano? La grazia di Dio dentro di noi Lo Spirito Santo dentro di noi È uno straniero Tante volte noi pensiamo Che lo Spirito Santo È il nostro cuore No È nel nostro cuore Ma è più grande del nostro cuore A un certo punto L'Apostolo dice Se anche il nostro cuore Ci rimprovera qualcosa Dio è più grande del nostro cuore Ma questa è una buonissima notizia Perché è come se Gesù Ci stesse dicendo questa sera Che dentro di noi C'è qualcosa che non è noi Che ci abita Uno straniero Che ha la capacità di fare la differenza La tua ragione non ci riesce Le tue emozioni non ci riescono Ma dentro di te Opera una forza Che è più grande di te Che è capace di fare Quello che tu non riesci a fare E qual è la differenza Di questo straniero che ci abita Dello Spirito che abita Dentro il nostro cuore Di colui che non è noi Ma è dentro ciascuno di noi E la famosa grazia di Dio Che stiamo nominando Tante volte durante questa giornata Questa grazia di Dio Questo straniero che ci abita Fa qualcosa di più grande Dice Passandogli accanto Vide E ne ebbe compassione I tuoi ragionamenti Non riescono a darti la compassione Le tue emozioni Non riescono a darti la compassione Lo Spirito Santo Sì La grazia di Dio Che opera dentro di te Sì Allora significa che È vero Gesù non sta rispondendo Alla domanda Perché succedono queste cose Ma quando succedono queste cose Dentro di noi Troviamo qualcuno Che ci fa fare L'esperienza Della compassione E sapete che cos'è la compassione? Quando tu smetti Di sentirti solo Perché qualcuno Si è accorto di te E si fa carico di te Una delle maggiori esperienze Nella sofferenza Che noi facciamo È la solitudine Quando usciamo fuori dal binario Delle cose ideali Ci sentiamo non capiti più dagli altri Anzi Stiamo male Perché mettiamo a paragone La nostra vita Con la vita degli altri E ci accorgiamo Che noi siamo diversi Che a noi è stato riservato Qualcosa di diverso E ci sentiamo Tremendamente soli Dio prende sul serio Questa nostra solitudine Non prende le distanze Da noi Se la ragione E le emozioni Ci trattano Da impuro Non riescono A risolverci il problema Il Signore Ha riversato Dentro di noi Una misteriosa forza Invece Che ci fa fare L'esperienza Della compassione Cioè Di sentirci Accompagnati Aiutati Lì dove Noi non abbiamo più Via di uscita Lì dove Noi non possiamo Fare più nulla Ve l'ho detto Quest'uomo Non prega Non desidera Non chiede Non può fare niente È nella totale Impossibilità In quel momento Il Signore Non lo lascia da solo Gli dà qualcosa Gli fa fare L'esperienza Della compassione E la compassione Si declina In questo modo Dice Gli si fece vicino Gli altri invece Hanno mantenuto La distanza Gli si fece vicino Gli fasciò le ferite Versandogli Olio E vino I padri Quando devono commentare Questo brano Dicono che È l'olio Della consolazione È il vino Della gioia Ora Quando una persona Si sente consolata Quando sente Di non essere sola È molto bello Che lo stesso evangelista Luca Quando deve raccontarci Un momento drammatico Della vita di Gesù Che è la sua lotta Nell'orto degli olivi Poi sapete che In quel momento Gesù avverte Tristezza Angoscia E non vuole morire Guardate come esprime L'umanità Gesù In quel momento Tutti gli altri evangelisti Ci raccontano Ci raccontano Della sua solitudine Ed è vera Questa solitudine Perché Non so se avete mai notato In quel momento Gesù Prega il padre suo Dice Se è possibile Allontana da me Questo calice Vi risulta che il padre Risponda a quella preghiera? No Allora va dai suoi amici E gli dice Restate qui E vegliate con me La risposta degli amici Qual è? Dormono Quindi vedete Gesù si sente Solo Da parte di Dio E solo Da parte dei suoi amici La solitudine è estrema Eppure in quel momento Secondo il racconto di Luca In quel momento In cui lui si sente più solo Dice Luca Venne un angelo A consolarlo Il padre non risponde Ma non lo lascia solo Gli manda un angelo Gli dà una consolazione E la consolazione Di non sentirti solo In quel momento Amici E' misterioso Il modo attraverso cui Il Signore si fa presente Dentro la nostra vita Noi vorremmo Che rispondesse Alle nostre domande E non ci risponde Vorremmo Che risolvesse I nostri problemi Ma non li risolve Questi problemi Ma misteriosamente In quel momento In cui abbiamo più bisogno Manda un angelo A consolarci Qualcuno Che non ci fa sentire Più soli E poi La seconda cosa Il vino della gioia E questa è un'altra esperienza Che soltanto Chi ne ha fatto esperienza Può raccontarla Noi pensiamo Che la gioia Quella che San Francesco Chiamava la letizia Si manifesta nella vita Quando la vita va bene Invece C'è una cosa stranissima Che le persone Che vivono la croce Che sono più crocifisse Che stanno vivendo Un dolore assurdo Agli occhi del mondo Quando lo vivono Affidandosi completamente Al Signore Pur soffrendo Dentro di loro C'è una stranissima letizia Ma com'è possibile Che io mi trovo a vivere Una cosa così drammatica Così brutta Che non l'avrei mai scelta Dentro la mia vita Eppure nonostante tutto questo Il Signore mi dà Una misteriosa pace Una misteriosa gioia Non viene da noi Questa gioia È un dono suo Io ho una famiglia sfasciata Ma mi affido completamente Al Signore In questo dramma Che sto vivendo Soffro Eppure In tutta quella sofferenza Se mi guardo Al fondo di me stesso Trovo pace Trovo gioia È la misteriosa letizia Dono del Signore Dentro di noi Allora capite Che questa grazia di Dio Che opera dentro di noi Non è un mago Non è un mago Che ci risolve i problemi Ma qualcosa che Ci muove interiormente E ci cambia Completamente L'atteggiamento Se prima eravamo Mezzimorti a terra Abbandonati Soli Disperati In una esperienza Di inferno tremenda Man mano Dio In quella esperienza Di fragilità Di debolezza Si fa presente Ci manda un angelo Ci dà una stranissima Gioia e pace Proprio mentre noi siamo Più feriti Più crucifissi Più drammaticamente Feriti dalla vita Lasciati in quella condizione Da cose che Non vorremmo mai Che ci succedessero Allora Se noi Dovessimo Finire qui Il nostro racconto Già Avremmo detto Moltissimo Avremmo detto Che la nostra ragione Non sempre ci aiuta Che le nostre emozioni Non sempre ci tirano fuori Ma che a un certo punto Il Signore Ci ha dato Una grazia di Dio Quella grazia di Dio Che si manifesta Dicevamo Nel sacramento Ad esempio Nel sacramento Del matrimonio Ci viene data Una grazia di Dio Che come uno straniero Che dentro di noi Esercita Quello che da soli Non possiamo fare Cosa fa questo straniero? Prova compassione Per la nostra vita Non ci lascia soli Ci dona L'olio della consolazione E il vino della gioia Ma Gesù Prosegue questo racconto Dice così Poi Lo caricò Sulla sua cavalcatura Lo portò in un albergo E si prese cura di lui Allora Mi piacerebbe Che per un istante Ciascuno di voi Visualizzasse Quello che Gesù Sta raccontando C'è un uomo Mezzo morto a terra Uno straniero Si avvicina a lui Cerca di aiutarlo Cerca di Lenire un po' Le sue ferite Di fasciarle Poi a un certo punto Lo deve mettere sul suo cavallo Cosa fa? Lo abbraccia Lo abbraccia Lo prende di peso Perché è un uomo Mezzo morto E lo carica sul suo cavallo E lo porta in un albergo In una locanda L'intimità L'intimità diventa Ancora più profonda Non si limita Semplicemente A fare qualcosa Per noi Ma a un certo punto Ci prende in braccio Il Signore Si fa carico Di ciascuno di noi E non soltanto E non soltanto ci prende in braccio Cerca un luogo Che possa Prendersi cura di noi Una locanda Un albergo Sapete qual è questa locanda E questo albergo? E la Chiesa La Chiesa Non è una proloco Che organizza Pellegrinaggi Attività E cose del genere No È un luogo Che Gesù Sceglie Perché possa Prendersi Cura Di persone Così Non viene chiesto All'ocandiere All'albergatore Di dare un giudizio Sul perché è successa Quella roba lì Gesù chiede All'albergatore Di aver cura Di quell'uomo lì Di farsi carico Di quell'uomo lì E attenti Dice Il giorno seguente Tirò fuori Due denari E li diede All'albergatore È Gesù che paga E dice all'albergo Occupati di questa gente È Gesù che dice Ti do io il necessario Per poterti occupare Di uomini e donne così Ora io vi faccio Una domanda Ma per noi La Chiesa È questo Peggioro la domanda La Chiesa Fa questo Perché se una Chiesa Non fa più questo Non è più La Chiesa Di Gesù Cristo Perché la Chiesa Per essere Chiesa Deve obbedire A questo comando Il comando Di essere Il prolungamento Della compassione Di Gesù Il prolungamento Della consolazione Della gioia Che solo Gesù Può dare Cioè Una Chiesa Che si fa prossima Sapete A un certo punto Ognuno di noi Dovrebbe capire Che la Chiesa Non sono gli altri Siamo noi stessi Questa Chiesa Ma noi Battezzati Siamo Chiesa Così Per le persone Che incontriamo Dentro la nostra vita Siamo persone Che sanno essere Il prolungamento Della compassione Di Cristo Offriamo Dei percorsi Che assomiglino A questo racconto Non Percorsi Che risolvano Tutti i problemi Che abbiano La risposta A tutto Ma semplicemente Che tentino Di essere Il prolungamento Di questa azione Di Gesù Dentro la nostra vita L'azione Di questo Consolatore Non a caso È uno dei titoli Più belli Che ha lo Spirito Santo Il Consolatore Allora capite Che quando tu Ti trovi a vivere Una croce Ma hai questo Consolatore Puoi anche Viverti una croce Perché non sei solo Capite Che quando una persona Ha una croce Ma ha una casa Dove può vivere Questa croce Allora può affrontare Anche Quel dolore Quella cosa incomprensibile Che gli è successa Nella vita Il problema vero È essere così Accoglienti così Prossimi così Tutto finisce Con una lettura Escatologica Perché Gesù Non si limita Semplicemente A dirci Che quel samaritano Paga Ma fa una raccomandazione All'ocandiere Dice così Abbi cura di lui E ciò che spenderai In più Te lo pagherò Al mio ritorno Ora non so se sapete Che Gesù tornerà Tornerà Alla fine dei tempi E ci chiederà conto Di che cosa abbiamo fatto Della gente Che ci aveva affidato E di questa gente Che ci è stata affidata Lui ci ha promesso Avete speso di più Quando torno Pago io Sembra un'immagine Molto commerciale No? Ma è un po' come dire Che Certe volte Anche come Chiesa Dobbiamo dare Un surplus di energie Dobbiamo lavorare Con ancora più gratuità Ancora più A fondo perduto Sapendo Che il valore Della nostra azione pastorale Non dipende Dagli applausi del mondo E non dipende Dal fatto che qualcuno Ci dica grazie Noi abbiamo Chi paga il conto È Gesù E ci interessa solo Lui Non ci interessano Tutte le altre cose del mondo In questo senso Iniziative del genere Possono sembrare Uno spreco In un mondo Che ragiona In tutt'altra maniera E invece Possono essere Una grande Adesione al Vangelo Vivere così Con questa gratuità Con questo pensiero Gesù conclude Questo racconto Interrogando questa volta Lui Il dottore della legge Lui che è esperto Di esegesi Lui che sa Come bisogna Interpretare La sacra scrittura Gli dice Chi di questi tre Ti sembra Sia stato Prossimo Di colui Che è caduto Nelle mani Dei briganti Traduciamolo In questo modo Chi di questi tre Ha potuto Realmente Fare qualcosa Per quest'uomo La ragione No Le emozioni No La misteriosa Grazia di Dio Lo straniero Che ci abita Sì Dice quest'uomo Chi ha avuto Compassione di lui E Gesù gli disse Va E anche tu Fa lo stesso Quindi Vedete come si conclude Questo Questo racconto Noi eravamo Quel personaggio A terra E quindi Siamo stati L'oggetto Della compassione Ma sapete Perché il Signore Ci usa Ci usa Compassione Perché a nostra volta Possiamo Noi Usare compassione Nei confronti Degli altri Quante volte Il Signore Ci consola Ma noi Diventiamo Consolazione Per gli altri Allora Dico qualcosa Che forse Vi lascerà Un po' Senza fiato Vi prego Di accoglierla Con umiltà Ma certe volte Il Signore Permette Di vivere Cose così Difficili Non soltanto Per Usarci Misericordia E consolazione Ma per Trasformare Noi In misericordia E consolazione Perché solo Uno che è ferito Può capire Un'altra persona Ferita In questo senso Dobbiamo aprirci All'ascolto Di chi vive Questo tipo di esperienze E di chi si sforza Ad essere Un discepolo Del Signore In questo tipo Di esperienze Noi abbiamo bisogno Di ascoltare Non le prediche Di qualcuno Neanche le mie Abbiamo bisogno Di ascoltare I testimoni Quelli che ogni mattina Si svegliano E tentano Di vivere Così La loro vita Facendo affidamento Su una Su un efficace Straniero Che agisce Nel cuore E che non soltanto Ci usa Consolazione Ma trasforma Ciascuno di noi In consolatori Ciascuno di noi